Un timido sole, temperatura mite e tanta natura. Tutti i presupposti per riscattare la Pasquetta grigia che abbiamo vissuto quest'anno. Ma i leccesi non hanno perso le speranze e hanno fatto bene. L'Uriu, la tipica Pasquetta leccese del giorno dopo, è un successo. Questo sole oggi è clemente, finalmente possiamo festeggiare la Pasquetta leccese. Eh, meno male, è la ora, qua è bellissimo. Anche venire tutti gli altri giorni, con le biciclette a piedi. Sì, specialmente ora che è arrivata primavera. E volevamo fare un picnic, una giornata permette. Qui al Parco di Belloluogo a divertirci, ad ascoltare tanta buona musica e a divertirci. Ci voleva un po' di, una giornata bella. Eh, siamo qui a godere un poco di questa giornata in libertà, con i bambini si divertiranno un pochino. In compagnia con i bambini ci godiamo un po' di musica. È una bella situazione, una bella tradizione nostra, no? Due panini, si stalla aperto e si continuano le vacanze pasquali. La tradizione arriva da lontano. L'Urio è infatti un'antica consuetudine legata ai riti bizantini, che prolunga la giornata di scampagnata anche il martedì dopo Pasqua. Dieci ore non stop di intrattenimento, animazione, spettacolo, parole d'ordine, divertimento e bellezza. Perché Parco Belloluogo, che ospita l'evento, è più bello che mai. Per questo spazio anche alla cultura, con visite guidate alla Torre di Belloluogo, esempio di architettura militare tardo-angioina, che secondo fonti accertate fu dimora degli ultimi anni di vita della contessa di Lecce e regina di Napoli. Abbiamo colto l'occasione per vedere un monumento che pur essendo leccese non avevo mai visitato. Quindi è molto interessante vedere quanta storia ha la nostra città. Siamo orgogliosi di essere leccesi. L'amministrazione comunale ha pensato a lungo al programma di intrattenimento della Pasquetta Leccese e ha creato una scaletta ricca di momenti pensati per grandi e piccini. Amici salentini, amici leccesi, è tornato come la tradizione l'Urio leccese, perché ultimamente Pasquetta piove sempre, ma l'Urio invece c'è il sole che spacca le pietre. Una giornata meravigliosa, lo spettacolo del Mago Iuri per tutti i nostri bambini, e poi Enzo Petraghi, la folk band, e poi gli avvocati rivorsisti, e poi la musica, i DJ set, i ragazzi delle scuole, Liceo Classico Palmieri, Virgilio Olivetti, tutti quanti i musicisti di ogni scuola che si esibisce quest'oggi al Parco Beroluogo. La Pasquetta Leccese è anche l'occasione di fare un bilancio del tempo di Pasqua che ormai lasciamo alle spalle, così come di auguri, auspici, desideri. L'augurio di questa Pasqua è ovviamente di essere tutti sereni, anche oltre i confini nazionali. Che arrivi presto l'estate, sicuramente è questo il nostro augurio in generale. Condivido! Eh, speriamo per tutte che sia una bella Pasqua di rinascita. Che non ritornino più quelle degli ultimi tre anni. L'augurio è sempre quello di pace, salute, soprattutto, e volersi bene. Insomma, le tradizioni si rispettano sempre e l'Uriu si conferma come ogni anno un momento di spensieratezza e un primo assaggio di quello che sarà il periodo più splendente dell'anno.